Questo utente scrive sotto un mio video Tu sei l'unico a fare business in questa faccenda Allora, al di là del fatto che non c'è nulla di male a fare business e guadagnare soldi onestamente e questa cosa, se questo paese lo capisse che guadagnare soldi e lavorare sono cose positive e non negative saremo probabilmente un popolo più prospero e meno assoggettato di quanto non siamo oggi Però questo commento lo devo criticare perché lo ritengo sbagliato per tre motivi Prima di tutto perché io sto provando il mio lavoro dicendo cose assolutamente sensate e giuste in maniera gratuita Secondo poi perché la maggior parte delle cose che io racconto gratuitamente sui miei reel e sui miei video YouTube sono di solito informazioni che vengono pagate a caro prezzo nei corsi di formazione quindi invece di criticare magari qualcuno dovrebbe prendere appunti Terzo motivo, io sono l'unico in Italia che è riuscito in questo settore a creare un'azienda aiutando il prenditore fianco a fianco invece di raccontare le cose da palco e facendo il fenomeno e noi abbiamo centinaia e centinaia di casi di successo e di storie incredibili di risultati strevitosi a volte che dimussano la bontà del nostro lavoro quindi piuttosto che criticare, cercate informazioni su di me non sindacate pigramente mentre non state facendo niente magari sul divano, magari su successo, non lo so ma magari eh